Circa un quintale di sostanza stupefacente, risultata poi essere marijuana, è stata sequestrata dal personale della Polizia Stradale di Pescara nell'ambito dei servizi di vigilanza svolti all'interno dell'autostrada e finalizzati alla prevenzione e repressione di illeciti e reati legati all'abuso di alcol e droga alla guida. Alle 8 di questa mattina all'altezza del casello autostradale di Francavillarmare è stata fermata una Ford Cuga con a bordo due persone. Ad insospettire il personale della Polizia Stradale alcuni involucri avvolti con del cellophane che si intravedevano dai finestrini. L'autovettura procedeva verso nord e proveniva da Cerignola ma era stata noleggiata nel milanese da Ariel Seni, 37 anni di origini albanesi con precedenti specifici e da Lisa Corazaniti originaria di Bollate di 21 anni. La droga trasportata dai due corrieri era destinata al mercato milanese e probabilmente proveniva dall'altra sponda dell'Adriatico. Infatti il personale della Polizia Stradale ha trovato tracce di sabbia sugli involucri. La macchina destava sospetti per l'andatura, probabilmente per il peso portato su un semplice autoveicolo, tanto che il personale operante ha proceduto al fermo e nel controllo dei conducenti e dell'interno dell'abitacolo ha rinvenuto questo ingente quantitativo. Gran parte delle merci lecite e illecite si muovono su gomma, quindi non mi meraviglia che si tenti di fare percorsi così lunghi magari augurandosi di non incappare in controlli di polizia, cosa che invece viene fatta e viene fatta sempre più spesso. La Stradale ha una competenza esclusiva in ambito autostradale, l'autostrada è un villaggio globale dove si muovono uomini, mezzi e merci.